E' uno dei conduttori più amati della televisione, parliamo di Gerry Scotti, fedele a Mediaset, ex disc jockey con una passione per la musica e per la buona cucina, che continua ad ottenere ascolti ragguardeoli con caduta libera, ma ha anche altre soddisfazioni personali al di là del lavoro. Nonostante sia molto discreto, infatti, il conduttore vive da dieci anni una storia d'amore dopo il clamoroso divorzio con la moglie Patrizia Grosso. I due si erano sposati nel 1991, nel 92 avevano avuto Edoardo, che ora vive a Los Angeles, sono rimasti insieme per undici anni, poi si sono separati nel 2002 e hanno ufficializzato la fine del loro rapporto nel 2009. Allora, con chi è fidanzato Gerry Scotti? E' presto detto. La sua compagna si chiama Gabriella Perini, non frequenta il mondo dello spettacolo e ha conosciuto il presentatore perché sua figlia Beatrice andava a scuola con Edoardo Scotti. E' una donna di grande carattere, aveva dichiarato Gerry in una intervista di qualche tempo fa. Mi aiuta negli aspetti pratici della vita e ha sopportato di vivermi accanto nonostante i riflettori. Stando ai rumors che circolano tra gli addetti ai lavori, una volta compiuti 60 anni, Gerry Scotti lascerà il mondo della TV e soprattutto farà il grande passo con la sua Gabriella. Dunque il 7 agosto si avvicina e speriamo che almeno sulla prima questione ci ripensi.